Noi siamo presenti al foro del telecontrollo da ormai dall'inizio praticamente, da sei edizioni. Quest'anno siamo tornati perché nelle edizioni passate abbiamo avuto buonissime esperienze, abbiamo avuto la possibilità di conoscere diversi partner e la presenza di quest'anno, oltre che a consolidare le partnership che abbiamo avuto negli altri anni, ci permette di creare nuove condizioni e nuove possibilità di sviluppo all'interno di Panasonic. Quali sono i driver di mercato, se parliamo proprio di telecontrollo? Noi nel momento in cui pensiamo alle nostre soluzioni, sicuramente partiamo dalle soluzioni ormai consolidate, che sono il protocollo IC6-870 che abbiamo già installato in diverse applicazioni lungo tutta l'Italia, e poi passiamo a tutte le soluzioni che ormai crediamo siano il futuro del telecontrollo, c'è tutte le soluzioni web-based, partendo dall'HTTP client che permette di mandare dei dati in cloud, passando poi successivamente all'HTML 5 che ha la funzionalità di poter permettere la visualizzazione di qualsiasi informazione da qualsiasi device, quindi partendo dal PC ed arrivando poi agli smartphone e tablet, e quindi con un po' di fantasia possiamo anche decidere di applicare il concetto di smartphone alle app e quindi creare delle app apposite per poter controllare la parte di automazione e quella della macchina. Parla di automazione e quindi parliamo anche di Industria 4.0, quanto si lega al concetto di telecontrollo? Allora, ovviamente noi siamo un'azienda che nasce dall'ambito industriale, quindi per noi il trasferimento delle informazioni e delle conoscenze dall'ambito industriale all'ambito del telecontrollo è una cosa che viene naturale, anzi noi crediamo fortemente che l'ambito industriale possa dare un contributo importante al settore del telecontrollo e le nostre soluzioni che sono PC-based hanno proprio in questa connotazione la loro forza, essendo soluzioni che per connettività sono aperte a tutti i protocolli e quindi possono interfacciarsi con qualsiasi tipo di sensore o di attuatore in campo e per modularità si possono espandere in qualsiasi modalità e quindi possono essere adatte a qualsiasi tipo di applicazione. Le faccio un'ultima domanda perché qua parliamo anche di smart city, smart community e dunque ci interessa anche gli investimenti, quanto si è disposti a investire proprio in questa direzione? Ecco, qual è il vostro sentore? Noi da sempre crediamo appunto nel telecontrollo, siamo gli storici partner di questa iniziativa del forum di telecontrollo e quindi l'investimento per noi è sempre molto importante. Teniamo presente che proprio a livello di casa madre in Germania abbiamo una divisione che sviluppa soluzioni di telecontrollo e dalla quale nascono tutte le soluzioni che poi andiamo a riversare sul mercato.